Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi di questo nuovo video vi spiego come modificare così le analisi della sicurezza di Windows ovviamente andiamo un attimo sullo scudo di Windows Defender che sta sempre nell'icona qua sotto eccolo qua oppure vai direttamente a scrivere sicurezza sicurezza di Windows quindi andiamo sulla sicurezza di Windows protezione da virus e minacce ed eccolo qua opzioni di analisi se avete problemi che fa sempre un'analisi automatica ogni 5 minuti, 1 ora e vi dà un po' fastidio c'è le opzioni di analisi qui c'è l'analisi veloce, analisi completa, analisi personalizzata ovviamente l'analisi completa l'analisi può richiedere più di 1 ora analisi personalizzata, scegliere i file percorsi che si desidera controllare antivirus Microsoft Defender io ovviamente ho solamente l'analisi veloce faccio solo l'analisi veloce e faccio avvia analisi e ci metterà un paio di secondi e farà così un'analisi velocissima invece quell'altra analisi personalizzata farà proprio l'analisi su ogni file che c'ha il sistema ok e ci metterà un bel po' di ore poi sempre su opzioni di analisi come puoi vedere c'è la cronologia della protezione e le minacce ovviamente se c'è una minaccia che ha rilevato così la sicurezza di Windows tu puoi sempre cliccare sopra o farla passare sul sistema oppure rimuoverla per sempre quindi puoi anche fare un'eccezione a questa minaccia ed eccolo qua quindi se questo video è stato utilissimo su come fare le analisi sulla sicurezza di Windows su Windows 11 iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao